Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel prossimo sviluppo della trama delle puntate turche, Zeynep si trova di fronte a una nuova fase della sua vita, accettando la richiesta di matrimonio da parte di Baris. Tuttavia, proprio in questo momento cruciale, il suo passato doloroso e le sue ferite psicologiche vengono risvegliate da una telefonata che riceve. Questa situazione mette di fronte a Zeynep a due scelte. ignorare tutto e abbracciare una vita felice con Baris, oppure affrontare il suo passato e aiutare coloro che condividono la sua stessa sorte. La lotta interiore di Zeynep, con le esperienze passate non è ancora conclusa, poiché ogni passo che compie sembra rispedirla indietro ancora di più nell'oscurità dei suoi traumi. Nonostante le obiezioni di Sakhine, la notizia del prossimo matrimonio tra Baris e Zeynep, è accolta con gioia a casa di Nermin. Nel frattempo, Benal sta vivendo un momento difficile e prende una decisione che avrà un impatto su tutti i personaggi principali, come abbiamo già accennato nei video precedenti. Oltre a ciò, viene rivelato che Benal e Maddy hanno una bambina e vivono sotto lo stesso tetto nonostante la loro situazione complessa. Nel frattempo, il passato di Gengis è in contrasto con la sua situazione attuale, in quanto è coinvolto in attività criminali dopo essere uscito di prigione. Zeynep, nonostante le circostanze, accetta la proposta di matrimonio da Baris, e entrambi i protagonisti sono colmi di felicità in questo momento. Tuttavia, un evento imprevisto interrompe la loro gioia. Una telefonata da parte di Benal, che cerca aiuto da Zeynep per sfuggire da una situazione difficile. Benal aveva pianificato di lasciare Maddy e fuggire con la loro bambina, ma le cose prendono una piega inaspettata quando il piano viene scoperto e interrotto da Maddy. La situazione diventa ancora più complessa quando Zeynep decide di intervenire e aiutare Benal a liberarsi da questa situazione. La sua azione la mette in contrasto diretto con Maddy, il quale è coinvolto in attività criminali e cerca di trattenere Benal. Zeynep riesce a liberare Benal e la bambina e le offre rifugio nella sua casa. Tuttavia, Benal prende una decisione scioccante che sorprende tutti. Maddy lascia la sua bambina e scompare. La trama si concentra anche sulla sfida di Zeynep, nei confronti di Maddy, poiché Zeynep crede che solo lei sia in grado di affrontare il pericoloso Maddy. Nel frattempo, altri personaggi si uniscono alla lotta, cercando di risolvere la situazione in modo pacifico. Tuttavia, il conflitto si intensifica quando Maddy minaccia le famiglie dei personaggi coinvolti e prende il controllo dei loro guadagni. La storia culmina con Maddy che decide di lasciare l'attività criminale e prendere una decisione definitiva per affrontare le conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo, Zeynep riesce a incontrare Janice in prigione e rivela l'andamento degli eventi. Inoltre, Janice rivela che Maddy, non è interessato agli affari illeciti, portando a una svolta nella trama. L'escalation della tensione continua con un attacco da parte degli uomini di Maddy, colpendo sia la casa di Baris che quella di Zeynep. Di conseguenza, i protagonisti si riuniscono per affrontare questa minaccia e risolvere il mistero dietro gli attacchi. In questo momento critico, la differenza tra gli uomini e le donne emerge chiaramente, poiché mentre le donne sono determinate a scoprire la verità, gli uomini sono scettici riguardo al coinvolgimento di Maddy. Con questa situazione, la trama si avvicina al culmine, creando un'atmosfera di tensione e suspense mentre i personaggi cercano di affrontare le sfide e risolvere i conflitti che si sono accumulati nel corso della storia.